Buongiorno, buon pomeriggio a tutti ragazzi, non so dipende sempre dall'ora in cui state guardando questo video E voi vi starete chiedendo, ma che diavolo di gioco stai portando KB? Vediamo se riesco a farvi vedere il cursore, no non si vede perché dentro non si vede Però se guardate in basso a destra, sopra lega B c'è scritto l'anno del gioco, ebbene si è PES 4 e infatti è ambientato nel 2004 Ed è PES proprio 4 ragazzi, cioè non sto scherzando, voi prendete PES 4 e è uscito poi PES 5, PES 6, PES 2000, credo 8, 9, 10, 11, 12, 13 Quindi questo gioco ha qualcosa come 10 anni, però fa figo, fa classico, fa molto classico e io avevo l'intenzione di portare Il primo match della stagione stabi cominciare, impossibile sapere cosa accadrà in questa partita Sì, sì, ho soltato un po' i tasti, oddio quanto vanno veloci i giocatori rispetto agli altri giochi La battaglia a sinistra È devastante Buona sicurezza di giocatori No ragazzi, questi giocatori vanno a una velocità assassina Rispetto a tutti gli altri giochi di calcio, qui i giocatori vanno a una velocità La smista a sinistra Sovraumano Tastolo Allora, tra l'altro, poi abbassa un po' la qualità perché finché non compro una scheda video Ah no, qui non si può scegliere il giocatore successivo Sì, vabbè ragazzi, sono tre tasti È fuori Non si può fare niente Oddio, anticipa? Questo si può fare anche questo Bam! Venta la fortuna Gol E' prima volta l'incontro Va bene Si sono conquistati un vantaggio immediato Credi che riusciranno a mantenerlo? Beh, la strada è lunghissima La miglior difesa come si dice in questi casi è l'attare A parte che devo prendere i salvataggi del PC vecchio di Need for Speed La gioca sulla fascia a sinistra La difficoltà mi pareva forse tre stelle Un lungo passaggio sulla sinistra Non ci gioco da sei secoli Castolo Non ci gioco da sei secoli Che potrebbe essere buono Io non gioco a giochi di calcio E da più o meno un anno È spazzata via Considerate che io non gioco a questo gioco da sette, otto anni Non pensavo fosse una via di mezzo giusta e tre stelle Lungo la corsia esterna a sinistra Quattro Che cavolo Ma mi ha cambiato da solo il giocatore Oh, mi ha cambiato il giocatore Può esserci il pareggio? Ma come sassi? La squadra ovviamente è quella della Master League inventata Infatti io sono i miei Oddio come vanno sui piedi C'è il Nili L'arbitro dice che si può proseguire E giudicherò Però va bene La colpisce piano di testa Non so se ho fatto un campionato Master No, in effetti È vero, sì Avevo fatto PES 2012 Su Play 3 Avevo fatto PES 2012 C'è stato bisogno di un raddoppio di marcatura per fermarlo Simelec Simelec La gioca direttamente sulla sinistra Oddio Oh, che cavolo No Piggio potersi non castano Però sto gioco Valutazione sono andato a vedere 9 su 10 Più a lungo hanno la palla fra i piedi Più si allontana la possibilità che gli avversari possano segnare Una chance per pareggiarla Sarà l'occasione buona? No, l'hanno spazzata via 10 anni Ed è la fine dei primi 45 minuti Hanno segnato l'unico gol dell'incontro fino a questo momento Qualche commento Procedi 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 I miei giocatori saranno Vediamo se la pausa va a fare bene le due squadre E adesso Da destra Verso sinistra Milan Da sinistra A destra La smesta in avanti La sposta verso la fascia sinistra C'è un treschino Era in fuorigioco Pure in fuorigioco Diamo un'occhiata più attenta a questo intervento Gran palla La gioca in avanti No, 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 no Vieni qui Vai Metti tutto Oh Ma che cacchio Traiettoria al quadro al centro Calciata lontano Liberata Se ne va con un gran movimento laterale Oddio ancora Barota Ancora lui No, prende palla Castolo No, non era Castolo Non ho capito Ha liberato Marco Lancia la palla in avanti Castolo No, no, no C'è tre limite È stato messo giù al limite Sottantesimo ragazzi Sottantesimo ragazzi Sottantesimo Siamo ancora in tant'anni Beh, oh Come contrasto non c'è mai È lanciato in uno scatto straordinario Ah, il divisione c'era Ma era probabilmente in forte Ma non è perfetto messo in mezzo Ripartiamo, ripartiamo Ma già questo è più effettivo Può mantenere questo ritmo Simelec Attenzione mi viene in mente Bursche Hanno ancora il possesso di palla La dà di prima Vai Bursche Taglila La passa in avanti Ah no, non è l'ultimo Giocata sulla sinistra Vai, cross No, angolo Spazza via Sarà angolo La qualità del cross sarà importantissima Lottano per il pallone in mezzo all'area Lungo lancio sulla fascia destra La gioca sulla destra La colpisce l'effetto Colpisce di testa molto rapidamente Battuta lunga Rimangono solo gli spiccioli Porta palla lungo la fascia sinistra La mette in mezzo Questo segno alla fine della partita 1-0 Hanno vinto la prima partita della stagione La miglior partenza